La crisi non è finita, è una installazione parietale che è realizzata da Dan Perioschi. Dan Perioschi è un artista rumeno. In questo frangente di recessione economica e di crisi globale il suo discorso si sofferma su avvenimenti, eventi e atteggiamenti della identità nostra, della condizione postmoderna in cui viviamo e quindi le grandi contraddizioni che noi attraversiamo ogni giorno. È una mostra da leggere univocamente, benché ogni disegno rappresenta degli eventi particolari. Essendo un work in progress ovviamente aggiorna quotidianamente rispetto a quello che succede nel mondo, come per esempio gli ultimi eventi che ci provengono dall'Egitto, c'è questo nome, Egitto, con queste due, non so, in alto? Sì. Con queste traiettorie, no? Che è anche, come dire, una sorta di domanda dove sta andando l'Egitto e vedi c'è una mummia che non parla, che non riesce a parlare. Quello che io trovo fantastico non è solo l'idea, la concezione del mondo che Dan Perioschi rispecchia nei suoi lavori, anche la proprietà del linguaggio che lui inventa. L'artista sarà qui fino al 16 febbraio a dipingere per chi volesse venire a vederlo. Ha cominciato a disegnare la settimana scorsa, fino al 17 febbraio si potrà venire a vedere quello che lui realizza dal vivo. Se no mi inciampo!